Iniziate a scaldare i motori dei vostri ETV One X800, è arrivata la versione stabile 009, targata chiaramente cuoco 92, quindi ben tornati insieme a Grosso Shop. Eccola qua, dopo averla vista sulle ETV One X600, è arrivata anche su X800, troverete nel link in descrizione la guida su come installare questa nuova versione software, chiaramente i classici Wipe, Data, Cache, Dalvik e poi un bella pulizia anche della memoria interna, andrà a installare questa bellissima ROM customizzata e targata Grosso Shop.net. La ROM è praticamente uguale, identica alla versione DX600, abbiamo ad Away per andare a bloccare le pubblicità, abbiamo il Play Store, abbiamo una versione multilingua, chiaramente tradotta quasi al 100% dal nostro Alberto Cuoco 92, che come al solito ringraziamo e menzioniamo all'interno di questo video recensione. Insomma, l'ETV ha voluto mettere anche i badge delle notifiche, come avviene per esempio su iPhone e sugli altri smartphone. Insomma, sempre una ROM più internazionale, sempre una ROM più che si basa sull'interfaccia che a noi ci piace, è davvero una ROM che gira molto bene. Ci sono anche gli OTA Update, quindi se Cuoco 92 troverà qualcosa da inserire all'interno di questa ROM, ce lo dirà e ce lo farà notare attraverso l'OTA Update. Si possono spostare i file, come abbiamo visto insomma anche su X600, un update davvero gradito questo anche per X800, uno smartphone che ancora oggi può dire la sua grazie allo Snapdragon 810 e su 4GB di RAM. Un saluto e alla prossima!